Ciao! Stiamo andando a vedere il tramonto a Santa Maria di Leuca. Questo è un video, eh? Vogliamo vedere questa splendida location in cui ci troviamo? A Strapiombo sul mare. Ecco il mare del tacco di Santa Maria di Leuca. Questa è la casa del Fico. Proprio a Strapiombo. Ciao!